Manifestazione regionale a Corotone del movimento Mo Basta per chiedere la fine del commissariamento dell'emergenza di rifiuti nella regione Calabria. Siamo nei pressi della cittadella scolastica e il corteo proveniente dalla discarica dietro la zona industriale di Corotone si sta congiungendo con gli studenti presenti qui all'esterno del liceo scientifico e quindi anche dalla ragioneria dell'Ipsia. Non basta il grido forte che arriva da Corotone basta contro un territorio deturpato da una politica che mangia e non risolve i problemi basta contro un commissariamento che ha di fatto sprecato un sacco di soldi senza portare a nulla di concreto. l'emergenza c'era tanti anni fa quando è iniziato questo commissariamento e c'è tuttora, anzi forse è aumentata. Non c'è tempo, non c'è tempo minuto, ma quando non c'è tempo minuto, aQI, aQI e aQI, aQI. Ha fatto il canale di un altro jo stesso po' di perfezio e inizio sono facendo un po' di perfezio. Per me da quando anche aQI, aQI, aQI è una tipica di perfezio. Noi da quando anche aQI, aQI e aQI non ti è un aspetto. C'è tempo pianeta di un'idea di qualifiare con il nostro negozio della città, a QI e aQI non ci è un po' di perfezio della città, che si chiudica di un agio di morte. Grazie a tutti.